buonasera abbiamo bianca qui dietro di me che ha trovato un lavoretto da un vip una persona importante e ma era un po di tempo fa ci ha lavorato per due anni ha lasciato sei mesi fa sentiamo la testimonianza da bianca personalmente quindi buonasera bianca buonasera fratello saccaria io sono venuta qui a trovare il lavoro poi io preso la cale la carta si e poi chiamato questa signora che diceva il nome di illaria e poi fatto l'appuntamento sono andata e poi mi hanno preso in questo lavoro per due anni ho lavorato suo marito è un attore famoso d'italia si chiama king rose stewart lei pure attrice si chiama illaria spada ecco e quindi tu hai trovato il lavoro da questa missione si stata contenta con loro vero si ottimo 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 ringraziamo signore quindi qual è il consiglio alle persone che tu dai riguardo alla parola di dio tu li consigli di avere fede in dio di pregare di leggere la sua parola giusto esatto sempre ricordando di dio regali e cosa importante per il lavoro per tutto quanto ottimo ottimo si 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 e tudor cosa ha detto e mangiare e mangiare si mangiare cibo solido cibo spirituale soprattutto cibo spirituale che porta alla vita eterna la vita eterna si grazie grazie